Ehi! 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 Sì, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta dopo una grandissima partita, lunga e interminabile, hanno dato 5 minuti di recupero, sono stati veramente intensi. E' interminabile questi 5 minuti, ma la fine della Parma c'è la scuola, vincendo 2-0 contro l'Alessandria, che può ferire, come potete vedere, sono tutti i punti che sono stati vinti, e abbiamo un testo grandioso, sono veramente godi su questo, perché è stato stato molto grande per l'Alessandria, per l'Alessandria, per l'Alessandria, tutti i punti che sono stati vinti, contro una squadra che ha fatto una grande forte, l'Alessandria era abbastanza determinata, e si può vedere spesso in avanti, e però il Parma, con la 4, sono stati vinti, e ha fatto un organismo di pieni. Ora ti vedo ora di vedere la squadra, ma qui ci vedrà assolutamente insalutante. La cosa che fa, è una cosa che è di spesso, e quindi adesso è in giro a tutti i tempi, come una cosa che è di spesso, e adesso è di spesso, è bellissimo insomma vi faccio vedere qui c'è anche il mio cugino qui vi saluta un tipo di rezzante di Parma qui c'è anche il mio cugino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti